l'altra volta eravamo arrivati al capitolo lanciare un incantesimo a pagina 202 un personaggio che lancia un qualsiasi incantesimo segue sempre le stesse regole base a prescindere dalla sua classe o dagli effetti dell'incantesimo la descrizione di ogni incantesimo nel capitolo 11 inizia con una scheda di informazioni che comprende il nome il livello la scuola di magia il tempo di lancio la gittata le componenti e la durata dell'incantesimo il resto della sezione descrive l'effetto dell'incantesimo allora spieghiamo molto velocemente tempo di lancio per lanciare la maggior parte degli incantesimi richiesto una singola azione ma certi incantesimi possono richiedere un'azione bonus una reazione le abbiamo già viste queste cose o un periodo di tempo molto più lungo allora azione bonus un incantesimo lanciato con un'azione bonus è particolarmente rapido un personaggio deve usare un'azione bonus nel proprio turno per lanciare un incantesimo purché non abbia già effettuato un'azione bonus in quel turno non potrà lanciare nessun altro incantesimo durante quello stesso turno ad eccezione di un trucchetto che abbia un tempo di lancio di un'azione reazioni alcuni incantesimi possono essere lanciati come reazioni questi incantesimi richiedono una frazione di secondo per essere completati e vengono lanciati in reazione a certi eventi se un incantesimo può essere lanciato come reazione la sua descrizione specifica il momento esatto in cui il personaggio può farlo cioè qual è il suo trigger tempi di lancio superiori per lanciare certi incantesimi inclusi gli incantesimi lanciati come rituali abbiamo parlato la scorsa puntata è necessario più tempo minuti o addirittura ore quando un personaggio lancia un incantesimo con un tempo di lancio superiore a una singola azione o reazione deve spendere la sua azione di ogni turno per lanciare l'incantesimo e deve mantenere la concentrazione mentre lo fa vedi concentrazione più sotto andremo a vedere se la sua concentrazione viene interrotta l'incantesimo fallisce ma il personaggio non spende lo slot incantesimo se vuole tentare di lanciare di nuovo l'incantesimo deve ricominciare da capo ora parliamo degli altri elementi come la gittata il bersaglio di un incantesimo deve trovarsi entro la sua gittata e grazie nel caso di incantesimi come dardo incantato il bersaglio è una creatura nel caso di incantesimi come palla di fuoco il bersaglio è un punto nello spazio in cui la sfera di fuoco esplode la gittata della maggior parte degli incantesimi è espressa in metri alcuni incantesimi possono bersagliare soltanto la creatura a contatto con l'incantatore incluso l'incantatore stesso altri incantesimi come l'incantesimo scudo influenzano soltanto l'incantatore in questi incantesimi la gittata indicata con il termine incantatore quindi quando c'è scritto gittata due punti incantatore vuol dire che una roba autoriferita diciamo al magic user anche gli incantesimi che generano coni o linee di effetto che hanno origine dal personaggio hanno una gittata incantatore a indicare che il punto di origine dell'effetto magico è l'incantatore stesso vedi faccio un paragrafo aree di effetto successivamente in questo capitolo una volta che un incantesimo è stato lanciato i suoi effetti non sono limitati dalla sua gittata a meno che la descrizione dell'incantesimo non specifichi altrimenti faccia dell'essere didascalici poi abbiamo i componenti o le componenti e infatti le componenti di un incantesimo sono i requisiti fisici che un personaggio deve soddisfare al fine di lanciarlo la descrizione di ogni incantesimo indica se richiede componenti verbali segnati dalla lettera v somatiche segnate dalla lettera s o materiali segnati dalla lettera esatto se personaggio non è in grado di fornire una o più delle componenti richieste da un incantesimo non è in grado di lanciare l'incantesimo andiamo a vedere verbale v molti incantesimi prevedono che l'incantatore in toni una sequenza di parole mistiche le parole vere e proprie non sono la fonte del potere dell'incantesimo è invece quella particolare combinazione di suoni tonalità e riverbero ad attivare il flusso della magia quindi un personaggio imbavagliato situato all'interno di un'area di silenzio come quella creata dall'incantesimo silenzio non può lanciare un incantesimo con una componente verbale somatica s per lanciare un incantesimo potrebbe essere necessario gesticolare energicamente o compiere elaborate sequenze di movimenti se un incantesimo richiede il componente somatica l'incantatore deve avere almeno una mano libera al fine di eseguire questi gesti poi c'è materiale m per lanciare alcuni incantesimi sono richiesti degli oggetti specifici indicati tra parentesi alla voce delle componenti un personaggio può usare una borsa per componenti o un focus da incantatore descritti nel capitolo 5 equipaggiamento al posto delle componenti specificate per un incantesimo se un incantesimo prevedere che la componente materiale sia consumata dall'incantesimo l'incantatore deve fornire questa componente a ogni lancio dell'incantesimo un incantatore deve avere una mano libera per accedere alle componenti materiali dell'incantesimo o per impugnare un focus da incantatore ma può essere la stessa mano che usa per fornire le componenti somatiche durata la durata dell'incantesimo è il periodo di tempo in cui l'incantesimo persiste una durata può essere espressa in round minuti ore perfino anni alcuni incantesimi specificano che i loro effetti durano finché gli incantesimi stessi non vengono dissolti o distrutti istantanea allora molti incantesimi sono istantanei l'incantesimo danneggia cura crea o altera una creatura o un oggetto in modo che non può essere dissolto in quanto la sua magia esiste per un solo istante puff concentrazione alcuni incantesimi richiedono all'incantatore di mantenere la concentrazione al fine di mantenere attiva la loro magia se l'incantatore perde la concentrazione un incantesimo di questo tipo termina se un incantesimo deve essere mantenuto tramite concentrazione questo requisito è indicato dalla voce durata dove viene anche specificato quanto a lungo l'incantatore può concentrarsi l'incantatore può terminare la concentrazione in qualsiasi momento non è richiesta alcuna azione normali attività come muoversi attaccare non interferiscono con la concentrazione tra normali movimenti come come attaccare cioè prendere uno capire dove colpirlo per ammazzarlo non ti distrae puoi starli concentrato interessantissima questa cosa i fattori seguenti possono invece interromperla vi leggo solo i nomi perché non ho voglia di approfondire lanciare un altro incantesimo che richiede concentrazione se ne fai uno non ne fai un altro subire danni ecco se subisci danni mentre fai un incantesimo mentre ti concentri ciao perso terzo incantatore incapacitato ucciso se sei morto non puoi lanciare le magie anche questo devo dire sempre alla faccia del didascalico si apre una finestrina violetta che lilla anzi che dice le scuole di magia le accademie di magia raggruppano gli incantesimi in otto categorie chiamate scuole di magia gli studiosi e i maghi in particolare applicano queste categorie a tutti gli incantesimi convinti che tutta la magia funziona essenzialmente allo stesso modo che sia frutto di un rigoroso studio o che sia elargito da una divinità le scuole di magia contribuiscono a descrivere gli incantesimi non prevedono regole intrinseche ma altre regole potrebbero fare riferimento una più scuole vi leggo solo i nomi abbiurazione ammalliamento divinazione evocazione illusione invocazione necromancia e trasmutazione bersagli un tipico incantesimo prevede che l'incantatore scelga uno più bersagli va bene la descrizione dell'incantesimo indica se esso ha come bersaglio creature oggetti o il punto di origine di un'area ad effetto descritta sotto a meno che non abbia un effetto percettibile una creatura potrebbe perfino non accorgersi di essere stata bersagliata da un incantesimo un effetto come un fulmine crepitante è evidente ma un effetto più sottile come leggere i pensieri di una creatura solitamente passa inosservato a meno che l'incantesimo non specifichi altrimenti allora abbiamo percorso libero fino al bersaglio per bersagliare qualcosa l'incantatore deve avere un percorso libero fino al bersaglio che quindi non deve trovarsi dietro a copertura totale se l'incantatore colloca un'area di effetto in un punto che non può vedere o un'ostruzione presente come ad esempio un muro tra l'incantatore e quel punto il punto di origine si forma sul lato ma madonna che complicazioni anche per la magia ma dai ma non è la trigonometria ragazzi su vabbè bersagliare se stessi se un incantesimo bersaglia un che brutta parola una creatura ha scelto l'incantatore questo può scegliere se stesso bene a meno che la creatura non debba essere ostile non sia specificato che dovrebbe trattarsi di una creatura diversa perché questo l'hanno ereditato da magic mi sembra aree di effetto alcuni incantesimi come mani brucianti e cono di freddo coprono un'intera area quindi possono influenzare più creature simultaneamente la descrizione di un incantesimo specifica la sua area di effetto che solitamente può avere una delle cinque formi seguenti cilindro cono cubo linea o sfera ogni area di effetto ha un punto di origine da cui l'energia dell'incantesimo si diramma le regole relative a ogni forma specificano mamma mia mamma mia cioè no veramente no davvero fate lo state facendo davvero ci sono dei paragrafi con il cilindro il punto di origine di un cilindro al centro di un cerchio di coraggio indicato dalla cono un cono si estende dal suo punto di origine una direzione scelta dall'incantatore la larghezza del cono un determinato punto della sua lunghezza è pari alla distanza di quel punto dal punto di origine cubo l'incantatore sceglie il punto di origine di un cubo che può trovarsi in una qualsiasi faccia dell'effetto cubico la taglia del cubo espressa indicando la lunghezza di un suo spigolo linea non sto leggendo tutto adesso sto accennando le prime righe perché veramente mi fa venire voglia di togliermi la vita ste robe una linea si estende dal suo punto di origine procede lungo una rete per tutta la sua lunghezza coprendo l'area definita dalla larghezza il punto di origine della linea non è incluso nella sfera l'incantatore sceglie il punto di origine della sfera la sfera si estende per quel punto veramente ma avete provato a simulare tutto no anche la magia dovete farla diventare un esercizio di geometria ma perché ragazzi ma perché no non è che la magia perché è matta no deve essere una cosa perché soprannaturale allora deve essere strana non può avere l'effetto di un cono di una linea va benissimo però per l'ennesima volta io vi assicuro ci sono war game giochi di soldatini con i cannoni i draghi che sputan fuoco i maghi che sparan le magie che hanno meno caratteristiche hanno meno di queste forme ce li hanno hanno il cono d'effetto ma sono più semplificati di questo questo che è un gioco che si deve svolgere nel teatro della mente non è un gioco strategico di soldatini non è un video game ma perché c'è scritto nella prima pagina devo andare a leggere per la terza volta c'è scritto che un gioco di narrazione la prima riga di tutto il testo dice un gioco di narrazione porca di quella puttana siamo qui a fare dove parti il cubo la lunghezza dell'angolo del triangolo del cono del dies ma perché fate sta roba qua non fate passare la voglia di continuare a leggere veramente vabbè tiri salvezza molti incantesimi specificano che un bersaglio può effettuare un tiro salvezza per evitare tutti gli effetti dell'incantesimo parte di essi bene tiri per colpire alcuni incantesimi prevedono che l'incantatore effetti un tiro per colpire per determinare se l'effetto magico colpisce il bersaglio scelto meno quindi non solo ti spari la magia ma spari la magia per colpire adesso qua non ho voglia di leggere no perché veramente vedo già dei più in mezzo al testo il bonus di attacco dell'incantatore equivale al suo modificatore di caratteristiche mamma mia sotto combinare effetti magici gli effetti di vari incantesimi sono cumulativi mentre le loro durate si sovrappongono tuttavia gli effetti dello stesso incantesimo lanciato più volte non si combinano si applica invece l'effetto più potente come ad esempio il bonus più alto vabbè ragazzi quando avrete sarete lì che giocate e avete due magie che si sovrappongono andate a leggere come funziona sta roba qui sì no è inutile che ve lo legga adesso bene c'è un paragraffino sulla trama della magia che noi andiamo a leggere e alla prossima puntata diamo un'occhiata ai nomi degli incantesimi ma sì dai grazie 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 grazie